Bella a tutti ragazzi Questo è un nuovo video su Insurgency Che Steam me l'ha messo gratis Per 22 ore Scusate Adesso lo proveremo, questa è la mia prima partita Vediamo un po' che c'è Specialista Vabbè mettiamo il geniere va Con lo shotgun, vai Diventare Proviamo, mettiamo l'M16 Vediamo un po' C'è la partita iniziale Questa è la mia prima partita Vediamo i tasti Z Semi, traffico Mettiamo raffica Non fate quello che sto per fare Oh shit Avete visto? Oh cazzo Sparano Granata Non ce l'ho le granate G Aspetta ho visto qualcuno Forse l'ho ucciso Non so Granate Pistola Coltello C4 What the fuck Provo a rasciare Ah è un morto Pensate l'ho ucciso io Vediamo se può prendere l'arma No Scendiamo giù Scendiamo giù L'ho ucciso No Cazzo Usa gli espositi per distruggere gli espositi Oh oh Hanno sparato Tanto passi Mi dagga Ma scatti Non so Forse era una grafica Ah Mi hanno ammazzato Specialista Fuciliere No Non riesco a Proviamo qua Ci ho messo il mirino Vediamo Mirino laser Traccianti Ah carino Dai No L'ho messo Protezioni Protezioni Una bella frag Magaro Questo cos'è Good job Ah è già finita la partita Farò un altro video più avanti ragazzi Questa era una partita così tanto per provarlo al volo Ah no Mi fa già iniziare così Vediamo un po' 762 KM Vediamo la KM Vai Non so perché mi fa scatti quando ho mirato prima Non so È la grafica o Boh Sarà lag Non so perché mi fa scatti Anche le Non so perché mi fa scatti C'è l'ho messo Ma si può pure glitchare intanto qualcuno viene da qua lo sento cazzo sparano facciamo gli uomini ho troppa paura tanto prima poi arrivano pure qui ne vedo uno oh merda ma sciottano porco due vabbè con questa morte chiudo il video ragazzi alla prossima